buongiorno ed eccoci in questa nuova avventura che ci porta a fare i 22 chilometri della via delle galie in lomellina quindi siamo nella provincia di pavia la via delle galie era una via che era stata fondata dai romani una via di comunicazione che metteva in contatto tutta la zona del po le pianure del po con la francia partendo da piacenza toccava la provincia appunto piacenza pavia e poi si diramava verso vercelli verso torino e verso ad aosta siamo partite da addorno e la destinazione è lomello sono appunto circa 22 chilometri tra campagne risaie vecchie cascine i buoni piedi il ter doppio i buoni piedi i buoni piedi i buoni piedi casa mia tra le mie risaie i miei campi di grano le mie origini i buoni piedi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.